Il canzetto è bellissimo perché non restano bellissimi, che è il più bello? Che è il più bello? Il più bello è Zeno. Tutti uguali? Sì, i miei miei miei, le cacchine ognuna è diversa. But I won't forget her Cause we dance all night To the best song ever Qual è il vostro cantante preferito? La vostra canzone! La vostra canzone? Ehm... Better than words, but no For my life, for my moments Your life, your voice, your reason to be My love, my heart He's reading for this Credete in Larry? No! Quanti sì sulle mani? Cosa rappresenta One Direction? Mi hanno salvato la vita Mi hanno salvato la vita Che cosa mi ha colpito di più della band? Che sono i ragazzi normali Il loro modo di fare, come si comporta Questa è la violenza Vi riederete delle Directioner o solo delle fan? Directioner Qual è il vostro... il sorriso più bello dei ragazzi? Oh no! 5! A noi! Come reggireste se fossero dietro di voi? Ripeterebbe un po' Che? Io ti anderei! Io ti anderei! Io ti anderei! Se poteste fare la domanda a uno del gruppo A chi e quale domanda? Perchè? 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 E' troppo bello Mi ragazzo! E poi... Che gli chiedo? Sono venuti a casa con me! Restore a live A take your home I drive all night To keep you warm in time Brava! Eh, un saluto! Ciao! Ciao!